Ciao a tutti, sono Rikukun e sono tornato su The Bending of Isaac Rebirth Dopo tanto tempo, il motivo per cui riprendo proprio ora il nostro vecchio salvataggio, non so cosa mi stia dicendo È perché ho comprato finalmente il DLC di Rebirth chiamato Afterbirth Che dovrebbe tipo aggiungere una miriade di roba Quindi adesso esploriamolo insieme Will you like to import your save from The Bending of Isaac Rebirth? Sì, certo Mi sta sbloccando achievement su achievement So che voi non potete vedere l'overlay di Steam ma mi sta sbloccando tanti tanti achievement Mi sembra che il nostro file fosse questo Perché il mio è questo, quindi continuiamo quel file che stavamo usando per questo let's play E ho visto che hanno aggiunto un nuovo personaggio, infatti Lilith si chiama Unlocked by beating grid mode with Azazel Quindi sì, mi hanno detto che hanno aggiunto anche una nuova modalità Che però... Ah, grid, ok Beh, direi di provare subito questa nuova modalità Facciamolo con... Con Isaac Ah no, with Azazel Beh, usiamo Azazel che non posso ancora usare perché dobbiamo fare tre patti col diavolo nella stessa partita Quindi usiamo Isaac In questa nuova modalità chiamata grid Vediamo cosa succede Allora Qua c'è un timer Qua c'è l'uscita Che forse è la fine Non lo so Qua serve una chiave per accedere alla stanza del tesoro E questo è un interruttore che non capisco Zero zero Perché? Non capisco Vabbè, lo capiremo più avanti forse Iniziamo a prendere il tesoro qua dentro Ah, si è chiuso È tipo un'arena, allora Vabbè, battiamo sti idioti Ok E entriamo qua Don't swallow the prize Non so cosa faccia Hanno aggiunto un sacco di oggetti nuovi ovviamente Con questo... Con questo DLC E entriamo qua, non so Ho un cuore in più, ok Quindi questo mi ha dato un cuore in più Oh mio, ci sono troppe cose nuove Allora, vediamo Beh, diciamo Facciamo così Eh, grazie I ragni Mi aspettavo tipo un... Un po' di soldi Poi questo? Cos'è? Ah, vaffanculo Rerolla gli oggetti Ho buttato dei soldi Allora, lì c'è uno su dieci Quindi presumo che dobbiamo collezionare soldi E nel farlo, vabbè Dobbiamo fare così Però mi sa che mi toglie mezzo cuore ogni volta che lo attivo Non lo so Forse è una mia impressione Sì, mi sembra che mi ha tolto mezzo cuore Quando ho attivato l'interruttore qua Però, se di fianco c'è scritto due su dieci Ah no, ok È semplicemente... Eh? Due, uno Zero È tipo un'arena Ok, ho capito questo E ho capito che non devo starci sopra dopo che lo premo Quell'interruttore Perché sennò mi fa danno Cioè ogni dieci secondi Spawna dei mob In cambio di soldi Cioè, no Aumenta sempre il tempo A dire il vero Forse non lo so se lo scopo è Ucciderli prima che finisca Il tempo O se devo ripremere l'interruttore Quando sono soddisfatto dei soldi che ho Beh, arriviamo a dieci Intanto Se ci riesco Senza morire Sta spawnando un po' troppa roba Per i miei gusti Ok, non so se mi stia più dando soldi Mi sembra di no Però, forse Aspetta Ok, no, sì, sì Me li dai soldi Però, no Troppi Oddio, le mosche gialle No, sto per morire Non ce la farò mai Cosa fanno le mosche gialle? Ecco, quelle cacchie lì Me le ricordo Sono fastidiosissime Bisogna di danno In qualche modo per fare danno Sennò tutti questi nemici Non li riesco a buttare giù Dai Beh, il timer si è fermato Non spawna più niente Però io ho un cuore solo Ok E... Buona Io Devo trovare qualche modo Per avere altre due monete A quanto pare Perché io ho 15 monete Effettive Però 8 su 10 Boh, aspetta Un boss Vabbè Spero almeno che mi droppi il suo oggetto Perché ho bisogno di qualche modo Per fare danno Che poi tra l'altro Steven è abbastanza facile da battere Chissà se mi appaieranno Dei nuovi boss Che non ho mai affrontato No, però cazzo Tra 15 secondi Spawna qualcos'altro Mezzo cuore I'm pretty fucked 2, 1 E basta Spawna qualcos'altro adesso Sì Ma che cazzo è? Scusami Vabbè Poteva capitare di peggio Sinceramente Sto coso Con mezzo cuore Senza oggetti Per fare danno È un po' dura Però le monete le ho Però ormai devo battere Questo tizio Senza perdere vita Che non è impossibile Però Un fottio di vita Spero che non aumenti La velocità degli attacchi Ecco appunto Lo fa No dai Non può uccidermi Proprio ora Lo sbocco Dai crepa Ti prego Oh è morto Meno male Ora se mi uccide la cacca È la miglior figura Di merda della storia Ok quindi Uscita E non ho vita Quindi io Mi vado a comprare un cuore Cioè Banalmente Oppure mi compro Beh sì Il cuore sicuramente Se no schianto Poi mi compro Proviamo a dare gli oggetti A sto tizio Cioè Sì Gli oggetti Le monete Oh vedi che ho fatto bene Minchia Una moneta per un cuore in più Subito Poi mi prendo Questo E un altro cuore Ok Andiamo Beh Non ho ancora capito esattamente Però da qualche ho visto Il boss Sì infatti Vedi che in fondo Tutti questi livelli C'è grid Una modalità Incentrata su grid Mi piace Però devo ancora capirne Esattamente le meccaniche Allora questa è la stanza Del tesoro gratis Poi se in qualche modo Riuscissi a trovare Delle chiavi Potrei prendermi Ulteriori tesori Qua c'è Il nostro fantastico negozio Quindi sì È una specie di Come una specie di survival Oserei chiamarlo Visto che Collezioniamo i soldi Finché vogliamo E poi Tentiamo di Avere più oggetti possibili Per continuare Ci sta Zero Spawn altro Beh finché sono ste cacchine qua Va bene Basta che Non mi spona niente Di Di epocale Minchia non l'avevo visto Quello perché C'era la moneta sopra Proprio Ok Quindi non conta se Li uccidi prima del tempo Voglio dire Non conta niente È solo Per non sovrapporti i nemici Che devi ucciderli Più in fretta possibile Più nemici sono Più è difficile Voglio dire Ah Merda Mi ero dimenticato Che questi Potevano diventare Scheletri E attaccare Istantaneamente Abbastanza scorretto Devo dire Ok Sembra non finire più Questo è un dato di nemici Oddio Cos'è quello Spawn a mosche gialle Le mosche gialle Non ho capito Cosa cambino Sembrano tipo Un pochino più aggressive Ma Boh Abbastanza Uguale Devo uccidere Devo uccidere assolutamente Questi Perché sparano Troppi colpi Ho anche un po' Più di range Di prima Quindi Posso stargli A distanza No La cacchina No però Odio la cacchina Ok Le mosche Sembrano avere Dei movimenti Più Più sensati Delle altre mosche Normali Nere Ecco cosa fanno Le mosche gialle Ho già 8 monete Su 10 Però Penso che dovrò Per forza Attivarne un altro Di Di cose Quindi affrontare Una specie di boss Dai su Ok Prima di attivare La cosa del boss Ho due bombe Potrei provare A rompere un fungo Però So che La probabilità è abbastanza bassa Di trovare qualcosa di utile Quindi facciamo decisamente così Ho anche trovato Una stanza segreta Ottimo Monete Però non contano Per Per le monete Da raccogliere Ok Un oggetto utilizzabile Ci stava Ah poi mi sono accorto Adesso che abbiamo Un trinket Che ci trasforma Le lacrime In qualcosa di pulsante Che è abbastanza inutile Magari Aumenta la grandezza Delle lacrime Di pochissimo Ma non ho notato Differenze Importanti Poi non abbiamo chiavi Manco per il cazzo Però io faccio così E mi vado a prendere Anzi Io ne prendo due Ok Allora Sì Sto iniziando a capire Un po' come funziona Lo scopo come al solito È arrivare più in fondo possibile Allora Io farei così Uso il cuore E mi riprendo La testa Ah poi questi due Sono collegati Senza motivo Pensavo che Mi stessero facendo Un regalo Tipo Tieni Metti due Stanze del tesoro Con il prezzo di una chiave Invece no Quindi attiviamo Vabbè Slot Per due Non uso Però uso la testa Ho ancora 24 secondi E poi ne spawno un altro Bella merda Forse quindi Non dovrei attaccare I vermetti Dovrei attaccare lui Altrimenti mi sovrappongo Slot a qualcos'altro Non è bello Ah cazzo 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 Beh dai Sì Ci sto dentro Ok Ci sto dentro Ok Usiamo decisamente Eh però non lo so Sì dai lo uso Ah no The Empress Mi trasforma in In qualcosa Che fa un danno Allucinante Allora non era L'attacco Era The High Priced Sì quella roba lì La zampa di mamma Che fa un danno assurdo Ancora meglio direi questo Quindi ci è andata bene Con la carta devo dire Poi io sento un volume Altissimo del gioco Però ho fatto la prova E si sente abbastanza Basso nella registrazione Quindi Mi sto tipo Assordando E tentando di parlare A un volume decente Però probabilmente Starò urlando Non lo so Vedremo nel video finale Allora Abbiamo una chiave 20 monete 20 monete Potrei usarle Per una pillola Ma siamo fuori Però non mi sembra Una pillola Mi sembra un oggetto Scusami eh E infatti Pill Mimic Ah ok Vaffanculo Un oggetto utilizzabile Vabbè Teniamo questa Vaffanculo Figuriamoci Se mi danno una moneta Ok Siamo al The Depths Sembra Cioè Presumo dal colore Sembra The Depths Sì Questo mi da Evil Range Shot Speed Up Io ho bisogno di danno Ragazzi Cioè Non ho bisogno di altro Egg Sack Bombs Ok Userò le bombe Per affrontare i boss A quanto pare E Vediamo cosa c'è nel negozio Che ho Zero monete Utile Non sembra esserci Niente di Importante Però questa sicuramente La rompo Perché Non ho voglia di Affidare tutto alla fortuna Una pillola sconosciuta La uso contro la prima ondata Di mostri Ah questi Cazzo questi Rimangono per sempre Aiuto No i ragni Pure Oddio Che merda Usiamo la Oddio C'è il tizio che dice Il nome della pillola Adesso O è solo per questa No Questo è un parto Mamma mia Usiamo una Pill Mimic Che non so cosa faccia Usiamola di nuovo Ah vaffanculo Vabbè crepate tutti Vabbè Sì comunque Il pill Mimic Dovrebbe tipo Usare un effetto Di una pillola A casa E questi non moriranno mai Oddio Ragni di Brimstone Ovunque Meno male che Mi fanno fuori i nemici Grazie 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 Ah Usiamo qualcosa Non capisco L'effetto esatto Di questa pill Mimic pill Avrei fatto bene A tenermi Il cuore Probabilmente Ok Completare un'ondata Di mostri Equivale a completare Una stanza Quindi gli oggetti Utilizzabili Sono abbastanza forti In questa modalità Allora Allora Fuori sicuramente Facciamo esplodere Non capisco Non capisco cosa Cosa cazzo sia Vabbè Andiamo Oddio Cos'è Un nuovo boss Madonna Un nuovo boss Adesso No Vabbè Usiamo The tower E non E non L'ho colpito Con neanche una bomba No Una Proiettile che mi segue Che è attaccabile Tra l'altro Beh Sembra tipo Loki Formato Per pipistrello Apre tipo Dei buchi Aiuto Cazzo di boss Pipistrello Oh madonna Adesso ne spawn Un altro di boss Oh Vabbè Sì Due boss Insieme Senza danno Vaffanculo Ma è impossibile Ma porca miseria E tutte le chiavi adesso Ovviamente Quando ne avevo bisogno Tipo i primi piani Per Ok vabbè Questo probabilmente È persa Però ho capito Le meccaniche Adesso Se facessi un'altra run Dovrebbe andare Decisamente meglio Ok Credo di aver ucciso Il pipistrello Però Lui con mezzo cuore Non ci riesco Lui è tipo Uno dei boss Più forti Del gioco Vaffanculo Quindi Restart Voglio riprovarci Curse of the unknown Non so i miei cuori Vabbè So che sono tre Adesso Allora direi che Andiamo subito Qua dentro Speed and range È già meglio Decisamente meglio Di tutta la run Di prima Tutti gli oggetti Che ho trovato prima Oh Lo sconto Perfetto In sta modalità Lo sconto è Micidiale Immagino Cazzo Ma non Puoi Non puoi Ma come fai Ma Credo che quelle monete Lì siano Cioè Non sono i soldi Che ottieni Infatti No Sono tipo Le ondate Che completi Mi sa Tu devi fare Dieci ondate Praticamente Però se io faccio Passare Sopra il centro Ma No Ma Che cazzo di sfiga Cioè Sto boss È devastante In the basement Se non hai danno Non puoi ucciderlo Prima mi confondevo Perché Vedevo che Sponavano le monete Pensavo Vabbè Saranno Le monete che raccogli Dopo che Fai le ondate Invece Sono proprio Le ondate Che ti servono A A passare Al prossimo piano Cioè Devi fare un numero Fisso Di ondate Ma esponano mosche gialle Le mosche gialle Nuove Anche in The Bending of Isaac 1 Quando era uscito Il DLC C'erano ste mosche Bianche Che non capivo Cosa facessero Adesso sono uscite Le mosche gialle Che non capisco Cosa facciano Sticky bomb shot Bomb shot Beh Non ho bombe Quindi inutile Anche questo Ah no Allora In qualche modo Si attaccano A alcuni colpi Ok ho capito Beh decisamente utile Questo allora Un colpo ogni tanto È nero Si attacca al nemico E dopo un po' esplode Però a mostro Sembrano Non attaccarsi Perché Fa tipo dei salti Che gli annullano Le cose attaccate Fa un culo Monstro Esplodi Dai che se esplode Gli faccio un danno Ok perfetto E Larry Jr Decisamente dei boss Cioè Legittimi Cazzo Non Non The Hound Al primo piano Senza oggetti The Hound È un boss Che ho sempre odiato Mamma mia È troppo forte Toh Dieci Fatto Senza perdere un cazzo di vita Praticamente Avrò tipo Due cuori Ma Fanculo Qualcosa che mi riempia la vita Per favore No però Un cuore azzurro E penso di avere più fire rate Poi prendiamoci Una bella chiave Oh Però questo mi ispira Questo sembrava Un oggetto molto forte Di solito Gli oggetti così Sono tipo Come quelli del diavolo Dove sapere così Chaos Ok È una minchiata Mi sa Bad trip Usciamo tutti sti ragnetti Prima che spawni il prossimo Ecco The cage È forte Però Con questa cosa Delle esplosioni Lo countero abbastanza C'è solo da stare attenti Quando fa l'attacco Mi ricordo che ha un altro attacco Oltre a rotolare Come un Come un Idiota Aia Ecco questo Però abbiamo abbastanza Spazio per scappare A questo attacco Ecco i boss Affrontati da soli Così In stanze grandi Sono facili Quando hai tanto danno Se no rimani lì Come un idiota A colpirli Adesso Prendiamo Prendiamo Questo Questo Non lo so Chiave dai Abbiamo una chiave Beh qua Decisamente worth Una chiave Visto che c'è un'altra Dentro Meno che la pillo Non sia Tears down O cazzate simili Questa è una brioche Decisamente E questo mi interesserebbe Steven Quindi Vediamo se riusciamo A raccimolare 15 Sì dovremmo farcela Full health Vabbè Niente di male Cioè Non mi serviva Ma Piuttosto che Beccare qualcosa Di negativo Preferisco una Full health Inutile Che poi inutile E mica tanto Perché mi sembra Che avevamo Un mezzo cuore Da riempire Mezzo cuore A the womb È come se fosse Un cuore intero Non so Se poi anche qua Vale che tutti i nemici Ti fanno Minimo un cuore Di danno Penso proprio di sì Comunque Sono morto Sì vabbè Un danno Dovevo prenderlo Per forza Ho beccato Mezzo cuore Di danno Beh figo allora Se subisco Mezzo danno Anziché un cuore Intero Come a the womb Nella roba reale Va benissimo Potrebbe tipo Arrivarmi sparato Quel tizio là Ah io Mamma mia Ma sono troppi Allora si è fermato Il timer Meno male Adesso spammiamo Fino a che non Proccano tante Di quei cose neri Veramente forte Sto oggetto Che Che crea Delle specie di bombe Da attaccare ai nemici Il cube of meat Mi ha salvato la vita Qua Quello è morto Si trasformano in teschi Quando muoiono Quei cose 17 monete 18 Ho anche culo Che mi stanno esplodendo I cose neri Quando i teschi Sono aperti Altrimenti penso Che non gli farei danno Aia Questo non mi piace Però Ho un sacco di danno Adesso Cioè sarò stupido io Ma Il danno Mi sembra Fondamentale In sto gioco Cioè senza danno Io non riesco Non riesco a giocare Con danno a uno No perché ho fermato Il timer Per sbaglio È un po' Un palo in culo Quel Cazzo di Di interruttore Al centro Della stanza Blot Aiuto La cosa forte Di The Blot È che C'ha quei due occhietti Che non si possono Uccidere Adesso che gli sto pure Attaccando Le cose nere Per sbaglio È un cazzo Di ostacolo Perché mi possono Venire a esplodere Addosso Con il mio stesso Oggetto Ecco bravi Occhietti Andate dal vostro padrone A esplodere Con i cose neri Addosso Dai crepa Grazie Mamma mia Che Patibolo Sto boss Continuiamo Vediamo cosa c'è C'è The shield Sembra shield Si shield Aiuto Non ho idea Di che cosa Cazzo posso Spawnare qua Però andiamo A prendere i tesori Damage Perfetto Questo Beh è bello Beh vediamo La mappa segreta Cioè La stanza segreta Però non ho bombe Quindi una sega Aspetta Vediamo Cosa possiamo Comprare Qua di bello Abbiamo altro danno Mi sembra Però la colomba Mi sembra Decisamente meglio Vediamo quanto danno Abbiamo Più che altro Beh 4 4 è buono Prendo la stigmata Continuiamo Qua Qua boss Spawn Una roba Però Questi sono Gestibili Dai Ok Questi sono nuovi Ah Sembrano come I cosi Aiuto Però Le devo far fuori In fretta Va bene Ne sono spawnati Alti La crepa Ti prego Grazie Non posso Accumulare I mostri Quelli Sono tipo Dei mostri Tutti Frankenstein Di Ecco di quelli Di Meat Boy Fantasmi Rossi Sono nuovi Pure Oh Madonna Ah Madonna Non li vedo Quanti sono Tra l'altro Ma sono tantissimi Aiuto Oh Non so come ho fatto a schivarla Quella Brimstone Ah ma Non finiscono più Sti fantasmi E ho subito Danno Dall'interruttore Ovviamente È veramente Un palo in culo Quell'interruttore Prendiamoci la Colonda Figo Non mi ricordavo Facesse questo Ma va benissimo Slot Prima c'è uscito Come boss Adesso c'è uscito Come mob Normale Tutto ordinaria Beh Quando passi Un certo punto Comunque Ci si riesce Perché L'importante È iniziare Decentemente Poi una volta Che prendi Gli oggetti Giusti Sei a posto Cioè adesso Non penso Che perderò Facilmente Anche perché Ho un sacco Di cuori E un sacco Di danno Ancora Debloat Mamma mia Che palle Però Ora che ho Il Flight Debloat Debloat È decisamente Più facile Chi è Ah questo Questo è forte Questo è tanto forte Però Con una stanza Con tanto range Si può fare Easy Infatti il problema È sempre Quell'attacco lì La Brimstone Telecomandata Anche me la ricordo È morto È morto Però entro qua Una carta Beh ci sta Eh mi tolgono Mezzo cuore Cioè Nell'avventura normale Quelle cose Ti tolgono un cuore Intero Perché sei A Sheol O perché sei A The Womb Qua invece Ti tolgono mezzo cuore Non so se magari L'hanno aggiornato Oppure una cosa Di questa modalità qui The Chest E poi c'è Grid Super Grid Non so Cosa ci sarà Come boss No The Shop Si chiama questo Invece Non è The Chest Chissà cosa c'è Oh qua c'è un bel fungo Che mi piace Di solito i funghi Sono forti In sto gioco Quindi Sono tentato A prenderlo Vediamo se riusciamo A ottenere due No eh Non ho bombe Oh madonna Che colpo Che mi son preso Una pressa Mamma Ah le mani di mamma Probabilmente Si Ecco le mani Come il floor master Oddio Cosa sono Vanno uccisi subito Col fuoco C'è troppa roba Super Grid Super Grid Ma porca Troia I ragni E' esploso tutto Che fortuna Ok adesso come boss Non so cosa aspettarmi Però l'importante Però l'importante Daddy long legs Vabbè sono i boss Di 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 chest Praticamente Però Sovrapporre daddy long legs A qualcos'altro Non mi piace Come idea Ok è morto Benissimo E' questa Che è una rottura Di coglioni Però Non c'è problema Perché volo Quindi non mi dovrebbe Creare problemi Il fatto che dissemina Ah no lei disseminava Cacche Infuocate Però ora Dissemina cuori Perché è una C'è una versione alternata Ok schientata Bene Ho bisogno di cuori Li vendevano qua Sì E mi prendo anche questo Cellule staminali Minchia lo scudo Quanto ci sta Quell'oggetto Però mi prendo un altro Cuore Perché non ho più money Ok E non ho bombe Quindi la mappa E' stata completamente Inutile Non posso Non posso entrare Nelle stanze segrete Olè Andiamo Vediamo cosa Cosa ci aspetta Ultra grid Si chiama Il posto Va bene Affrontiamolo Ok Credo siano Tante battaglie boss Prima c'è da affrontare Grid In sé Poi penso che ci sarà Ci saranno due Super grid Omega grid Come si chiamano E poi penso ci sia Tipo una specie di boss finale Wow Utile lo sconto Ragazzi Molto utile Ah eccolo qua Ultra grid Facciamo un bello screenshot E affrontiamolo Oh madonna Che 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 Il mio cervello sta elaborando E intanto mi sto concentrando Aia mi ha dato un cazzotto Mi ha tirato dei soldi Non lo so Ci sono troppe monete in giro So che i soldi non sono mai abbastanza Però vabbè In questa situazione no Aiuto Cosa Cosa sono Io colpisco Oddio Io pensavo fossero delle cose buone Quelle Invece Oh madonna Ok allora Quelli vanno assolutamente distrutti Come Come monete Quelle con la chiave Mi sta Mi sta massacrando Tipo E chi l'avrebbe mai immaginato Che grid sarebbe diventato Così importante D'avere una modalità Tutta per sé L'importante è che non tira Tipo Tanti nemici normali Ecco vediamo Ecco ecco Attenzione Ok cazzo Ne ha aperta una Questa Oh madonna di nuovo Nooo Ne ha aperte quattro No tre Vabbè Sono tante comunque Oh mamma mia Cosa devo fare Meno male che sono Abbastanza veloce Mi ha cagato soldi Mi ha cagato soldi Addos Tira fuori di nuovo Le bombe Stavolta Aiuto Ah esplodono Ah esplodono Vabbè punto Si ferma lì la cosa Non rischio di prendere Un milione di danni Ok dai Stai andando bene Lui ha metà vita Anzi meno E io ne ho ancora più di metà Aia Bombe Cazzo Ok Chiavi Questo è il più pericoloso Secondo me Eh non faccio in tempo A distruggere tutte Oddio Si è schivati Oh mamma mia Che culo E tra l'altro Mi ha anche partito Un colpo da dietro Grazie al mom's head Questo cos'è Sicura Vabbè Non sembra Essere sicurato di molto Si sicura Non di tanto Però sicura Bombe Porca troia Sono tante E non mi ha preso Neanche con una Ok Dai 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 È andato L'importante è che non Faccia le chiavi Bam Via E vai Grid Cos'è Sta roba Sembra tipo La cosa delle donazioni Però io Non ho più soldi Fine Vabbè Questo è ending Ah non è finita Sono diventato un coso Di quelli Impiccati Nei vari negozi Stanze segrete Eh Siamo felici Ok Allora vabbè saltiamo sta roba per favore Mi piace questa modalità nuova Press tab for daily challenge Hanno aggiunto anche la daily run Figo Ci vediamo alla prossima parte di Rebirth O Afterbirth Come volete chiamarlo Non so quando Ma continueremo con il nostro file E scopriremo nuovi oggetti Nella modalità normale Probabilmente Ciao a tutti